Giungo da fino a St. John, mercato, a oltre 3.000 chilometri di distanza. Nel 1209, a soli 35 anni, Giuliano Marconi ha il primo italiano a ottenere il premio Nobel per la fisica. Grazie ai successi ottenuti, il sistema di telegrafia senza fili di nobbo viene adottato da una marina mitramica. Qui c'è un luogo dedicato a Marconi. Marconi ha fatto, non molto molto da qui, un centro in Coltana. Qui vedete, per esempio, ha fatto queste antenne che sono due o tre chilometri lungo. Molto come Virgo. Perché ha fatto questo? Per esempio, ha dovuto trasmettere radio waves. E ha fatto questo, nel 1911, per fare una trasmission allonga l'Atlantico, da qui, Coltano, all'inizio all'inizio. E' stato trasmettato dal New York Times come la stazione più potente sulla Terra, nel 1911. E 20 anni dopo, con la radio waves, ha riuscato a liti la luce del Gesù Cristo del Marco Valdo, del Rio de Janeiro, come un mirro di religione e lecromagnetici che si trasmettano messaggi all'interno del mar.